Una pistola con matricola punzonata, una doppietta, una mitraglietta, fucili, una bomba a mano, due chili di tritolo, un chilo di plastico, un chilo di polvere da sparo diversa e divise appartenente al corpo dei vigili del fuoco sono stati rinvenuti dai carabinieri di Reggio Calabria nel corso di una serie di controlli in un casolare di Rosario Valanidi in provincia sempre di Reggio Calabria. Nel corso della stessa operazione i militari hanno tratto anche in arresto il presunto autore delle armi ritrovate, Domenico Gattuso, 47enne, regino già condannato per favoreggiamento della latitanza di Vincenzo Ficara, noto esponente dell'omonima Cosca, catturato in provincia di Macerata nel giugno del 2006 dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. In particolare il tritolo e il plastico ritrovato sono esplosivi di tipo militare non reperibili in commercio, mentre la bomba a mano ritrovata dai militari proveniente dall'ex Jugoslavia conferma la capacità della criminalità regina di approvvigionamento di armi micidiali su canali internazionali.